questa serie parla di fiducia e speranze penso che nella vita di ognuno di noi non ce ne sia mai abbastanza il mio personaggio è martin bone è un padre completamente estraneo al mondo del figlio non hanno un rapporto semplice perché lui non parla mio figlio non parla perché non ha niente da dire è la storia di un padre che si sforza di comunicare con il proprio figlio e lo fa attraverso i numeri i numeri guarda sono gli stessi numeri il figlio di martin ha grandi capacità di usare le sequenze matematiche può addirittura prevedere il futuro con i numeri è una tabella di marcia il suo compito sarà quello di seguirla per lui è davvero una serie da non perdere in prima mondiale dal 20 marzo su fox